Il figlio più giovane del principe e della principessa del Galles è spesso paragonato a sua madre Kate. Tuttavia un esperto reale ha individuato un paragone tra Louis e suo padre. Il principe Louis è un ragazzino ostinato proprio come suo padre, il principe William, secondo un esperto reale che li ha visti crescere entrambi sotto i riflettori. L'ex corrispondente reale della BBC Jenny Bond ha notato come sebbene Louis sia spesso paragonato fisicamente a Kate. Principessa del Galles è al suo lato materno della famiglia. In termini di tratti della personalità il membro più piccolo della famiglia del Galles, prende da suo padre con la sua natura energica e indipendente. Le buffonate sfacciate di Louis, mentre era in giro con la famiglia hanno raccolto molti titoli, in particolare il suo comportamento durante le celebrazioni del giubileo di platino della regina lo scorso giugno. L'autrice reale Jenny Bond ha dichiarato. Il principe William era un bambino adorabile, e sono sicura che lo sia anche Louis. Penso che condividano una caratteristica, ovvero che fin dall'inizio William era un ragazzino piuttosto ostinato. Ed è noto per essere piuttosto testardo da adulto, ma in modo positivo. Louis sa quello che vuole e ci si atterrà. Penso che Louis potrebbe essere abbastanza simile a lui in questo senso. E certamente piuttosto ostinato dalle foto che abbiamo visto di lui che tira da una parte e sua madre dall'altra. Domenica scorsa la famiglia ha festeggiato Louis, che compie 5 anni con l'uscita di due nuovi ritratti con lui e sua madre, che giocano nei giardini di Windsor. Nella dolce foto si vede Louis spinto su una carriola da Kate, con indosso un maglione di lana blu e i famosi pantaloncini che indossa così spesso. Kensington Palace ha sottotitolato il loro post su Instagram dell'affascinante momento familiare, fotografato da Millie Pilkington, con un messaggio di compleanno per il piccolo principe. Qualcuno compie 5 anni domani. Tantissimi auguri al principe Louis. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.